Il filmato del bombardamento di Cassino è uno dei più noti di tutta la Seconda Guerra Mondiale. L'effetto delle esplosioni sembra furisincrono perché le cineprese sono a grande distanza dal monastero e montano dei teleobiettivi. Il filmato del bombardamento di Cassino è uno dei più notici. Il filmato del bombardamento di Cassino è uno dei più notici.